Dottoressa Miola, Bentri è presente al servizio ReteTour con delle soluzioni di information technology nell'ambito delle reti di distribuzione. Di cosa si tratta? Bentri è una società che si occupa di infrastrutture da oltre 30 anni presente sul mercato. È una società americana e quando si parla di infrastrutture si parla di soluzioni software per la gestione dell'intero ciclo di vita delle stesse. Quindi soluzioni per progettazione, pianificazione, costruzione, gestione messa in esercizio di infrastrutture. Infrastrutture intese tutto ciò che impatta sul territorio, possono essere asset viari come impianti e anche reti tecnologiche. Oggi siamo qui presenti con l'intento di mostrare alcune soluzioni innovative in termini di gestione delle reti, specialmente reti idriche, con la presentazione di un case study finalizzato alla creazione di uno smart system. Inteso con la possibilità quindi di utilizzare dei modelli predittivi di analisi, creando una piattaforma di integrazione combinata con la conduzione operativa finalizzata quindi a innalzare i livelli di sicurezza e automatizzare i processi e ottimizzare quindi anche l'intero flusso di lavoro. Ecco perché mi ricordo aver assistito a un vostro convegno qualche tempo fa dove appunto segnalate come la sostituzione di un elemento in un componente è una criticità e mi ricordo che con i vostri software avevate la possibilità di predire il momento corretto per eliminare il rischio contenendo il più possibile di eventuali poi difformità quindi di prevedere la manutenzione in maniera corretta. Sì, allora abbiamo diverse soluzioni. Ovviamente la modellazione è lo strumento, sono dei software che consentono di pianificare e progettare quindi tutte le diverse attività sulle reti. Interessante anche l'utilizzo della tecnologia di modellazione finalizzata alla ricerca delle perdite idriche ad esempio. Quindi la possibilità noi abbiamo all'interno della nostra soluzione un modulo specifico chiamato Darwin Calibrator che è un algoritmo genetico che consente di andare a localizzare l'area dove più possibile potranno esserci queste perdite ovviamente attivando una serie di scenari multipli e analizzando il modello con i dati provenienti da campo. Quindi la tecnologia di innovazione serve davvero nelle infrastrutture? Sicuramente. E la sensibilità com'è degli operatori? La sensibilità è che abbiamo tantissime applicazioni in ambito GIS, ci stiamo spostando verso un'idea di soluzione. Non esiste ventri a portfolio tantissimi prodotti per risolvere, per andare nell'ambito delle infrastrutture è necessario avere comunque una soluzione completa, quindi una serie di software che possano di volta in volta andare a rispondere a quelle che sono le esigenze dei diversi operatori, che ovviamente sono attenti e disponibili a recepire quelle che sono le nuove idee che vengono appunto dal mondo dei fornitori. Grazie.